Innovazione e vero amore per la terra sono alla base dello storico consorzio Illuminati Frutta, fornitore Coop dalla fine degli anni Ottanta. A unire Coop e Illuminati è anche la filosofia del chilometro zero. Unicop è stata infatti la prima a credere nella qualità della produzione locale. L'azienda a sua volta si è sviluppata cercando di andare incontro a quelle che erano le esigenze proprio dei soci Coop, dei clienti Coop, capendo quelle che potevano essere le necessità e soprattutto andando dietro ad un filone di qualità. Abbiamo innanzitutto privilegiato quello che è la natura. L'azienda sorge nella Val di Chiana, zona tra le più fertili della Toscana ed Italia, e comprende 340 ettari coltivati a mele, pere, pesche e susine, sfruttando la tecnologia per l'avanguardia, sempre nel pieno rispetto della natura. È un microclima particolare, diciamo, che ci permette di avere la coltivazione sia di mele che di pere e anche di pesche e di susine e di avere una buonissima qualità. Diciamo che siamo abbastanza unici nel panorama nazionale, visto che riusciamo a produrre delle buonissime qualità su tanti tipi di frutta. L'azienda si distingue già nella raccolta, una fase molto delicata, che per preservare il frutto utilizza strumenti unici nel panorama italiano delle imprese ortofrutticole. Noi raccogliamo in maniera molto delicata, facciamo più stacchi a seconda della maturazione del frutto, non sempre viene staccato tutto il prodotto allo stesso tempo, ma viene fatto uno stacco scalare. La frutta viene selezionata tutta a mano, eccetto una parte di preselezione, che a volte viene utilizzato dei macchinari specifici, ma poi il confezionamento viene eseguito tutto manualmente, come appunto potete vedere, anche perché la delicatezza in sé del frutto necessita un confezionamento manuale. Altro fiore all'occhiello dell'illuminati frutta è la lotta guidata integrata, un sistema di produzione che salvaguarda il consumatore e che usa metodi agronomici a basso impatto ambientale. Si tratta di praticare dei trattamenti allorché ce ne siano bisogno, mentre per quanto riguarda l'ortofrutticoltura tradizionale vengono fatti dei trattamenti a calendario, cioè ogni determinato tot di tempo si passa sul frutteto e si fanno dei trattamenti con dei prodotti fitosanitari. Con la lotta guidata integrata si introducono all'interno del frutteto delle trappole, e allorché si verifica la presenza di alcuni batteri o di alcuni virus, allora ci si passa con dei prodotti volti solo ad abbattere quello che la trappola ha raccolto. Trenta celle frigorifere, ognuna da circa 3.000 quintali, conservano il prodotto in atmosfera controllata, riducendo al minimo l'ossigeno e introducendo azoto. Così la frutta rimane fresca, come appena raccolta, anche per 9-12 mesi, senza trattamenti chimici, garantendo gusto e salubrità.